Un'ora di lavoro ... 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 Ma io vedo c'è un problema che devo incontrare, sottosche ma sottere. Perché io magari... ...sono. Non capisco. No. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Chi deve firmare la liberatoria per i bambini? Hai firmato? Ah! Tu ti ha firmato? Oh tu ti ha firmato. Non capisco. Non capisco. Quando... Ti tengo la foto. Ah! 1, 2, 3